Pallo su Ruotolo, l'arbitro Allora Trieste fra Triestina e Parma, va in vantaggio da Triestina, situazione impostata da Causio e conclusa poi da Cinello, anche se c'è una contestazione da parte degli Emiliani, 1-0 di Cinello. Al 38esimo della ripresa c'è questo fallo su Fontolan, l'arbitro Di Cola segna il calcio di rigore, trasformato da Bortolazzi ed è 1-1 fra Triestina e Parma.